Siamo ripartiti e ci siamo subito rimessi al lavoro perché le promesse fatte in campagna elettorale andavano sicuramente subito rispettate. In primo luogo c'era questa promessa che era stata poi stretta con l'On. Morelli quando venne a Fano in marzo e l'On. Morelli è il Presidente della Commissione Trasporti alla Camera e martedì siamo andati subito in compagnia dei rappresentanti dei comitati di Marotta e di Falconara contro le barriere lungo la ferrovia e ci siamo incontrati in Commissione Trasporti con l'On. Morelli che ne è il Presidente e l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, l'ingegner Gentile. È stato un incontro assolutamente produttivo, interlocutorio ma molto produttivo. Le varie parti hanno dimostrato assolutamente di voler trovare una sintesi, una soluzione e quindi siamo molto contenti di aver in qualche modo preso con gli elettori questo impegno e di aver cominciato comunque un percorso che nel breve termine dovrebbe portare ad una soluzione positiva. In questo caso l'On. Morelli si è preso l'impegno di trovare la soluzione legislativa con una piccola postilla dicendo che la progettazione delle barriere dovrà avvenire tenendo in considerazione che nel 2020 abbiamo tutti i terreni moderni. Questo ci permetterà di fare delle barriere completamente molto più basse, parliamo di barriere di circa 90 cm Fon assorbenti e utilizzare il sistema di abbattimento delle vibrazioni sul sedime ferroviario, oltre ovviamente alla sostituzione di tutti i treni, con un enorme risparmio nella tabella degli investimenti che voleva fare RFI. soldi che indubbiamente potranno servire per fare magari altri adeguamenti e questo credo che sia il lavoro più bello che siamo riusciti a fare perché Ferrovie RFI era pronta a portare il progetto delle barriere per settembre a Fano. Ovviamente conferenze di servizi, il sindaco l'aveva già detto, l'aveva accennato, sarebbe stato bocciato, però una volta che lo bocci la ferrovie devono fare ricorso perché comunque devono temperare una norma e il ricorso l'avremo perso. Così abbiamo anche risparmiato soldi per i legali, per i ricorsi, tempi per approvare magari un progetto inutile.